Calis Pera Vorrei parlarvi oggi, sono stanchi ma proveremo ad andare avanti Vorrei parlarvi di come è possibile attraverso la sovranità monetaria come è possibile superare il problema fondamentale delle nostre economie europee che è la disoccupazione La disoccupazione, come nelle parole dell'economista Warren Mosler che per noi è uno degli economisti di riferimento è un crimine contro l'umanità e per questo motivo siamo qui per dire che non è vero che non esistono alternative non è vero che siamo condannati ad un destino unico e non è vero che la coperta è corta attraverso una gestione diversa della moneta e dell'economia perché l'occupazione è possibile ed è auspicabile Si è parlato questa mattina del fatto che a metà degli anni 70 le vecchie politiche economiche che iniziane cioè le politiche in cui ho stato all'interno dell'economia sono entrate in crisi ma esiste la possibilità di aggiornarle, di attualizzarle e di renderle utili per il presente e se è possibile cosa ci impedisce di farlo? Quello che proponiamo è un approccio diverso alle finanze pubbliche diverso da cosa? diverso da quello che le tecnocrazie europee ci hanno proposto negli ultimi dieci anni e quello che ci hanno imposto negli ultimi anni a partire dal 2007 cioè un destino nel quale il contributo dello Stato all'economia di un paese è sempre più ridotto Quello che enfatizziamo attraverso gli studi di comunicazione che facciamo è che le nazioni che hanno una moneta sovrana e che nelle quali il Ministero del Tesoro coopera in maniera efficace con la propria banca centrale non possono mai fallire sul proprio debito denominato nella sua moneta Questa prima evidenza ci fa saltare subito all'occhio il fatto che invece nella zona euro possiamo fallire perché non siamo stati sovrani nella Grecia, nell'Italia, nel Portogallo, nella Spagna e nella Germania sono i mentitori della propria moneta la usano come se fossero una colonia Quello che noi proponiamo invece è un approccio che l'economista Abba Lerner ha definito finanza funzionale Perché finanza funzionale? Perché il bilancio del governo in questo approccio non diventa più un fine ma un mezzo e il mezzo è abbattere la disoccupazione e fornire i mezzi di sussistenza e un futuro migliore a tutti i cittadini dello Stato L'approccio della finanza funzionale si concentra sulla disoccupazione sulle capacità inutilizzate dell'economia invece che concentrarsi su rapporti numerici come il rapporto debito PIL e il rapporto deficit PIL In realtà la disoccupazione corrisponde all'evidenza che il deficit del governo è troppo basso non troppo alto ci hanno detto per anni come dice l'economista Warren Mosley ci hanno detto per anni che in realtà il deficit del governo questa presenza massiccia del governo nell'economia sia qualcosa di parassitario sia un mostro da abbattere in realtà in questo deficit c'è la spesa che va a sostenere i nostri redditi quotidiani per noi, per quello che gli economisti chiamano con un termine forse antipatico settore non governativo ma cioè i cittadini, le imprese per noi la spesa dello Stato è un credito è il nostro reddito e quindi tagliare questo debito dello Stato significa tagliare il nostro reddito e la nostra ricchezza perché proponiamo un aumento ragionato e controllato della spesa pubblica? per creare lavoro non solo per dare come invece alcune proposte che vanno per la maggiore in Europa adesso non solo per dare un sostegno monetario ma per creare lavoro perché il lavoro se c'è ed è distribuito ed è per tutti crea diritti e crea la vera democrazia senza lavoro la popolazione non può rivendicare i suoi diritti e non può esercitare una vera democrazia e quindi gli obiettivi di questo nostro approccio saranno la piena occupazione e mostreremo che la piena occupazione consente anche di giungere a una stabilità dei prezzi e dell'economia in generale perché il ruolo dello Stato è importante perché a differenza di quello che ci raccontano le istituzioni europee e i loro serbi nei vari governi nazionali il ruolo dello Stato è quello di fornire certezza della domanda e dell'economia in generale senza un intervento dello Stato che come ricordava questa mattina il dottor Galloni fornisce certezza all'economia gli investimenti nemmeno quelli privati possono ripartire e mano a mano che tagliamo e soprattutto la spesa pubblica è composta di salari per la maggior parte ma mano a mano che tagliamo queste spese in realtà stiamo distruggendo i consumi e gli investimenti e quindi stiamo distruggendo il futuro della nostra economia per questo proponiamo attraverso un ritorno alla sovranità monetaria l'istituzione di programmi di lavoro garantito quindi non solo un reddito garantito ma un lavoro garantito a chiunque in questo momento non lo trova all'interno del settore privato come ricordava l'economista Hayman Minsky i governi possono essere datori di lavoro di ultima istanza o di prima istanza come piace ricordare all'economista italiano Emiliano Francaccio e in che senso? è possibile che lo Stato con sovranità monetaria offra un salario fissato ad una quantità libera di lavoratori nei momenti di recessione come quello in cui ci troviamo uno Stato a moneta sovrana potrebbe offrire un salario a chiunque desideri entrare nel programma e nei momenti invece di ripresa e di crescita dell'economia ci si aspetta che i lavoratori che prima si trovavano all'interno del programma possano rientrare nel settore privato le attività che vengono promosse attraverso i piani di lavoro garantito sarebbero attività ad alto contenuto e valore sociale sarebbero attività che spesso in questi momenti soffrono per il fatto di non essere profittevoli per il fatto che il settore privato non può tenerne conto in questi momenti di crisi chi si prenderà cura dell'assistenza sanitaria? chi si prenderà cura dell'ambiente? chi si prenderà cura dei figli di chi è costretto a lavorare sempre più ore all'interno di una giornata per poter guadagnare uno stipendio sempre più basso? in realtà i programmi di lavoro garantito vogliono creare questi valori d'uso importanti e utili per tutta la comunità offrendo in cambio un salario e i mezzi di sostentamento per tutti e la concentrazione, l'attenzione principale del nostro programma è quello di uno sviluppo umano coordinato e armonico uno sviluppo dell'economia che consenta anche alle classi più colpite di contare qualcosa all'interno della società perché forse, come ricordavamo prima l'aspetto più devastante delle crisi non è tanto, o quantomeno non solo l'aspetto economico cioè la perdita e l'abbassamento del tenore di vita ma il fatto che se non si ha un lavoro e se non si hanno i mezzi per il proprio sostentamento anche la propria rappresentanza il proprio potere democratico trova e questo, come ormai è evidente agli occhi di tutti non è possibile all'interno di un sistema monetario dove la moneta è gestita da poche istituzioni finanziarie come è l'eurozona in questo momento è possibile che questa illusione e queste menzogne sulla moneta possano essere cancellate dal dibattito pubblico solo con il ritorno ad una vera sovranità monetaria e per la sovranità monetaria non intendiamo poi una politica generica una politica che dia soldi a pioggia come accusa qualcuno o una politica che mantenga in vita l'assistenzialismo come molti amano chiamare il fatto che semplicemente la gente abbia da mangiare quello che noi intendiamo fare è creare una politica di investimenti pubblici e strutturali per poterci guidare fuori da questa crisi e guidare fuori dalla crisi significa cambiare e modificare non solo il prodotto interno lordo la ricchezza nazionale in termini quantitativi che spesso può essere riduttivo ma cambiare anche la composizione di questo prodotto sapere cioè che cosa produciamo come lo produciamo e anche come lo consumiamo perché ovviamente una gestione diversa dell'economia si riflette anche nella diversa concezione di come produrre e come consumare che sono due aspetti che al pari della finanza ci hanno portato nella condizione difficile in cui siamo gli stati non sovrani e quindi come appunto la Grecia come l'Italia, come il Portogallo, la Spagna e tutti gli altri 17 membri dell'eurozona non potranno mai impiegare l'approccio della finanza funzionale non potranno mai garantire ai propri cittadini la piena occupazione perché le politiche di austerità sono autodistruttive e impediscono la formazione della ricchezza di cittadini e di imprese comprimono i profitti, sì ma comprimono anche i salari comprimono anche gli investimenti impediscono l'uscita da questa impasse nel momento in cui la politica fiscale cioè la gestione della spesa e delle tasse viene separata dalla politica monetaria cioè la gestione dell'emissione della moneta in realtà lo Stato diventa al pari dell'impresa un competitore sui mercati finanziari e a questo punto è impossibile parlare di vera democrazia molto spesso si sente parlare e si sente elogiare le virtù della Banca Centrale Europea una banca centrale indipendente in realtà la parola indipendente nasconde un significato in realtà più negativo e cioè indipendente dal controllo democratico dei cittadini europei perché non potendo finanziare l'occupazione, la crescita e una politica di investimenti pubblici ben ragionata in realtà quello che la Banca Centrale Europea fa è creare disoccupazione e impedire la formazione di una vera democrazia in Europa perciò riteniamo che sia fondamentale il ritorno alla sovranità monetaria proprio perché abbiamo in mente quale può essere una prospettiva diversa e futura per la gestione delle economie non quindi un messaggio generico di speranza perché molto spesso la speranza ha un sentimento passivo ma la fiducia nel fatto che avere delle prepese politiche e sapere dove indirizzarle sapere non solo cosa chiedere come se le giuste politiche venissero dall'alto ma sapere cosa costruire come cittadinanza e come elettorato e come cittadini di una vera democrazia ecco perché riteniamo che sia importante che si parli da subito di un'uscita ragionata dall'eurozona per l'Italia per la Grecia per la Spagna per il Portogale per tutti i paesi europei in difficoltà con l'idea però di cambiare completamente le politiche economiche dello Stato in realtà molti osservatori economici e politici come abbiamo ricordato anche prima sostengono che sia possibile riformare l'Unione Europea i suoi trattati e l'eurozona e che esista una soluzione tecnica e teorica con cui i trattati potrebbero essere riformati con le quali i paesi potrebbero mettersi d'accordo fra di loro e cambiare le politiche europee e quindi si parla spesso del fatto che quel limite del 3% nel rapporto tra deficit e PIL possa essere eliminato possa essere riformato perché in realtà molti sanno e dicono apertamente che si tratta di una follia ma noi riteniamo che sia impossibile riformare l'eurozona non ci sarà mai e non c'è in questo momento quel consenso all'interno di istituzioni non democratiche come quelle che compongono l'Unione Europea per portare avanti queste riforme e perché riteniamo che l'Europa debba essere rifondata su premesse completamente diverse su un coordinamento dal basso dei propri paesi europei ognuno di essi sovrani ognuno di essi con la capacità di programmare le proprie politiche pubbliche per i ceti più deboli per i ceti medi ma i bassi della società ed è quindi necessario per poter impiegare questi piani di piena occupazione il ritorno alla solidarietà monetaria grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti